un caloroso saluto ai utenti di sport e chilometri zero grazie mille antonio per questo spazio che dedichi alla nostra squadra del foiano calcio la riunione se fatta di ragazzi giovani che si trovano ad affrontare una situazione che è inspiegabile per gente molto più grande di loro figuriamoci per un'età come la loro dove il calcio dovrebbe essere veramente una valvola di sfogo impressionante in una vita comunque anche loro anche la loro stressante faticosa purtroppo il calcio è stato fermato e direi giustamente perché comunque la situazione che stiamo vivendo è molto più grave di quanto possa essere importante il calcio in sé per sé però qui parliamo di calcio con l'augurio di tornare presto presto in campo questo stop stop questo blocco forzato è arrivato in un periodo che per noi era meraviglioso eravamo ritornati primi in classifica dopo tre vittorie consecutive a seguito della sconfitta con il badesse in un campionato molto bello e molto competitivo il provinciale senese juniors è un campionato dove tutte le squadre veramente sono organizzate dentro a un campo per lottare con i tre punti e quindi era molto avvincente eravamo insieme dal dai primi siamo insieme dai primi di agosto e colgo l'occasione per fare una serie di ringraziamenti che sono dovuti perché sono veramente sentiti ringrazio sicuramente la società foiano nella persona di paolo marchi per avermi dato la possibilità di allenare nel mio paese e tra l'altro la categoria che amo di più ringrazio alessandro viviani che è il mio collaboratore e che si sta veramente impegnando tantissimo per per i ragazzi e per per questa squadra e ringrazio i due dirigenti paolo baini e massimo baini lo dico con il sorriso perché sono due persone veramente splendide che si mettono completo servizio dei ragazzi oltre che ci fanno veramente divertire e non per ultimi ma per spenderci qualche parola in più ringrazio vivamente i nostri ragazzi perché hanno dimostrato e stanno dimostrando di avere un gran carattere di avere una gran forza d'animo si stanno veramente impegnando tantissimo in queste settimane perché credono come come in tutti noi di poter tornare a giocare a calcio per poter concludere e poter raggiungere quello che per noi era un sogno a inizio stagione perché era una rosa quasi completamente nuova con un allenatore nuovo e quindi era difficile pensare di trovarsi primi a cinque giornate della fine c'eravamo e speriamo di concludere il campionato vorrebbe dire che stiamo tornando alla normalità vorrebbe dire che se torniamo a giocare a calcio vuol dire che non c'è più pericolo a livello nazionale e quindi questo sarebbe principalmente importante per quello in queste tre settimane abbiamo fatto tante cose la chat della squadra è vivissima il morale è alto e abbiamo deciso con alessandro di puntare principalmente su questo logicamente lavorando anche qualcosa su qualcosa che riguardi la tenuta fisica però senza dare un programma individuale abbiamo creato dei mini tornei fra noi dove ci siamo divertiti dove siamo stati protagonisti anche noi dello staff e ci siamo divertiti ci stiamo divertendo ora abbiamo fatto una videoconferenza più che altro per rivedersi dopo tanto tempo è stato bello e abbiamo deciso insieme di trovarci almeno un paio di volte settimane parlare di calcio quindi tra me e alessandro prepareremo del materiale da presentare a loro ne discuteremo ne parleremo vedremo immagini di partite faremo una parte teorica del calcio che poi probabilmente quando siamo sul campo e in campo è anche una cosa che abbiamo poco tempo di fare nella categoria nostra quindi può diventare un modo per trovare risorse nuove sicuramente ho avuto conferma che c'ho un gruppo di ragazzi veramente determinato e questo ci darà una grossa mano nel momento in cui dovremo ripartire che è l'augurio è quello io mi auguro di ripartire e mi auguro di tornare sul campo ad allenare i miei ragazzi grazie ancora un saluto